Ma le dirò che per me è lo sci totale, perché fai salita, fai discesa, fai pianura, godi la montagna al massimo, non solo, quelle discese in neve fresca per quei pendii che sono che poi ti fermi, guardi e vedi le tue tracce, è una cosa emozionante, bellissimo, bello tutta la montagna, bello tutto lo sci, bellissimo perché io ho fatto sci di fondo, l'unica roba che non sono riuscito a fare è il salto, il salto non l'ho fatto, ma al resto ho fatto tutto, soprattutto io vengo dall'alpinismo, dall'amore per la montagna, perché la montagna è bellissima in estate ed è ancora più bella d'inverno. Sì, adesso a gennaio iniziamo le prime gare di Coppa del Mondo, i miei obiettivi saranno appunto il circuito delle gare di Coppa del Mondo, le grandi curse, a fine stagione l'obiettivo e puntare alla vittoria della Patrouille des Glaciers. Quest'anno mi sono preparata bene, in estate ho lavorato molto, ho fatto degli elementi mirati insomma per la preparazione a queste gare e quindi spero di raccogliere quel che ho seminato. La primavera, per fortuna da un certo punto di vista, è distante e quindi c'è ancora tempo per prepararsi e per trovare la condizione. Purtroppo è distante da un altro punto di vista e quindi ci tocca faticare ancora per un bel po' di mesi. Speriamo di ritrovare un attimo questa voglia di soffrire questi stimoli a breve in maniera da poter fare una buona stagione.